Apostolo per l'Africa e profeta della missione, come lo ha definito il Papa, San Daniele Comboni promosse la nascita nella seconda metà dell'Ottocento dei missionari Comboniani e delle sue ore missionarie. La sua intuizione, salvare l'Africa con l'Africa, accompagna ancora oggi il suo istituto, in ogni continente dove opera. Attualmente i missionari Comboniani sono circa 2000, presenti in 40 nazioni, oltre 1700 le missionarie, sparse in 30 paesi, tutti impegnati nella difesa dei diritti umani e nel sostegno di movimenti di rivendicazione dei senza terra e dei senza tetto. Un'attenzione particolare rivolta ai giovani e alla loro formazione scolastica e professionale, con la realizzazione e la gestione di scuole nelle periferie delle città e nei villaggi sperduti, delle aree rurali e della foresta. I Comboniani si dedicano ovunque alla nascita e allo sviluppo di piccole comunità cristiane, ritenute lo strumento forse più efficace di evangelizzazione e nuovo modo di essere chiesa.